La provincia regionale di Grigento offre un'ulteriore servizio alla collettività, potenziando di fatto l'attività di Provenzione per la lotta contro Grigento e Boschino. Lo sta facendo grazie anche alle 8 associazioni di valontariato presenti in quasi tutto il territorio provinciale. Un'iniziativa importante e pregnante per gli almoni in questo periodo dove già stanno iniziando l'ambito, atteso che oggi ho letto che ho presso le vicinanze del Comune di Sciacca già sono iniziati i primi incendi. Partirà da stamattina la prevenzione e al contempo anche su richieste da parte del sindaco del Comune di Porto e Peniche e di Real Monte ogni sabato e domenica per tutto il periodo di agosto sarà presente con il presidio sanitario a disposizione dei bagnanti. Sì, diciamo che come provincia anche quest'anno ci vogliamo impegnare nella prevenzione, quindi preferiamo attività di prevenzione e di controllo del territorio invece di operare in emergenza. delle squadre composte da due volontari, quindi percorreranno le state provinciali in corrispondenza delle aree boscate. Le aree interessate al servizio sono quelle che ricadono nei comuni di Agrigento, Favara, Grotte, Racalmuto, Naro, Siculiana, Cattolica Reaclea, Cammarata e Comitina. Una persona semplicissima di una ricchezza interiore straordinaria.